Musica Lei parlava di aziende, saluto Angelo Petrosillo che è l'amministratore delegato di Black Shape Aircraft che è un'azienda, è uno di quei campioni nazionali del nostro paese che produce velivoli per uso sportivo e di addestramento le tasse dal punto di vista di chi fa impresa sono calate o no? Allora noi come gruppo, perché Black Shape come sai è parte di un gruppo importante, internazionale che si occupa anche di treni di misura, con Mermec e di Satelliti, con C-Tail abbiamo assunto tra stabilizzazione e nuove assunzioni quasi 80 persone con le misure diciamo del 2015 C'è tra la decontribuzione e Jobs Act Le misure del 2015 sono state dal nostro punto di vista molto efficaci perché hanno dato una spinta da un lato a stabilizzare quelle figure che magari avevano raggiunto un'anzianità o un livello di professionalità che poteva richiederne la stabilizzazione dall'altro lato invece nuove professionalità tanto per dirne una, il nostro capo della produzione è britannico il capo della sorveglianza rispetto ai voli è ungherese cioè anche per attrarre intelligenze dall'estero che molto spesso hanno dei livelli retributivi mediamente più alti di quelli italiani è importante avere uno sgrave da questo punto di vista anche dal punto di vista diciamo del capitale umano e una multinazionale Petrosillo nella vostra azienda cioè uno che ha bisogno di assistenza, di informazioni a chi si rivolge? C'è un call center? No allora non c'è un call center ovviamente ci siamo noi ci sono le persone che lavorano con noi che sono a disposizione del cliente noi tra l'altro abbiamo un programma che si chiama Total Care che addirittura segue il cliente da prima ancora che diventi pilota quindi da prima ancora che diventi pilota fino a quando possiede un nostro aeroplano un programma innovativo che abbiamo lanciato quest'anno e comunque sul servizio io volevo dire due cose la prima è che mi sembra che tocchi i due punti diciamo che fanno la differenza valore aggiunto e formazione cioè dove si può richiedere al cliente un prezzo più alto per i nostri prodotti, i nostri servizi, le nostre attività se produciamo valore aggiunto cioè se aggiungiamo al valore del prodotto o del servizio qualcosa in più che determina per il cliente la disponibilità a pagare un prezzo più alto e questo come si fa? nella manifattura si fa con la tecnologia nei servizi si fa con la formazione cioè il tema di fondo è che noi siamo un paese che ha una creatività straordinaria un'inventiva straordinaria ma che ancora a livello di capitale umano deve fare un salto io voglio fare solo un esempio visto che abbiamo due persone che siedono in Parlamento e che quindi da questo punto di vista possono anche magari dare un risconto peraltro due ex ministri due ex ministri persone validissime si discute di reddito di cittadinanza possibilità di estendere misure universali di sussidio che è diverso dal fatto di sostenere delle persone in momenti di difficoltà occupazionali questa cosa viene calcolata con varie formule però diciamo si parla di 8 miliardi 9 miliardi 12 miliardi 5 miliardi cosa importante allora Obama mette 4 miliardi di euro nella formazione digitale dei suoi cittadini che cosa significa? non la capacità di utilizzare uno smartphone perché gli italiani in questo sono fenomenali sono i primi consumatori del mondo pur non avendo un'industria di telefonia che è una roba diciamo che dovrebbe farci riflettere abbiamo smantellate nel corso degli anni ma la capacità di produrre contenuti web di produrre contenuti per gli utenti web per gli utenti mobile e quindi costruire posti di lavoro l'alta velocità a Bari Napoli ne parlavamo prima 3 miliardi basterebbero con due anni in più di lavori per passare da due ore e venti a un'ora di collegamento allora un governo può decidere spiego che però le sta particolarmente a cuore in questo punto perché la black shape pensate è un'azienda che ha il suo cuore in Puglia a Monopoli ecco no lo spieghiamo il nostro presidente il nostro presidente Pertosa ha lanciato questa provocazione a Confindustria settimana scorsa dicendo due anni in più 3 miliardi in più passiamo da due ore e venti di percorrenza a un'ora cioè come c'è la metropolitana d'Italia tra Roma e Milano può esserci tra Bari e Napoli sarebbero 6 milioni di persone nelle aree metropolitane allora il tema è continuiamo a immaginare un'idea dove lo Stato c'è ti dà una mano comunque ti assiste ti fa da balia oppure investiamo per trasformare i nostri cittadini in persone capaci di creare anche occupazioni sì sì noi come gruppo abbiamo costruito abbiamo inaugurato l'anno scorso lo stabilimento della Citael che fa satelliti a Mola di Bari l'ha costruito il nostro gruppo vi dico soltanto che l'abbiamo costruito in un anno e mezzo e che l'unica tecnologia presente sul rover Curiosity che è su Marte l'abbiamo fatta noi quindi voi siete su Marte e tra le istituzioni locali la stazione meteorologica come hanno reagito il meteo lo vediamo a Mola e lo mandiamo a Cape Canale ma ti hanno dato problemi ma ci hanno sostenuto ma quindi avete avuto persone diciamo burocrati intelligenti intelligenti buon esempio ci vuole buon esempio un buon esempio dalla Puglia quanto è la reale pressione fiscale su un'impresa allora alta alta quanto? 60%? no no c'è chi dice che ormai è del 65% tra tasse palesi occulte ovviamente no la pressione è alta è diciamo superiore alla media europea senza dubbio è attorno al 54% e 56% è più bassa di alcuni paesi europei pochi forse solo due molto pochi è più alta di tutti gli altri sicuramente questo tema c'è c'è anche il tema della detassazione degli investimenti cioè un imprenditore è vero che vuole spendere e fare gli investimenti imprenditori veri vuole fare gli investimenti detassati mettere i soldi in azienda perché sa che lì hanno valore perché lì ci sono le persone sue lì ci sono le persone che lavorano mette i soldi in azienda lì detassa invece di comprarsi le case o le macchine fa gli investimenti o le bar che fa gli investimenti in azienda poi si compra pure magari però fa gli investimenti in azienda gli vengono detassati e fa crescere l'azienda questo vuole imprenditori veri chiarissimo grazie a Petrosillo grazie a Damiano grazie a Gelmini grazie a Siri grazie grazie più grande va sempre a tutti voi ci ritroviamo alle 9.40 domani con Coffee Break grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti